È possibile radunare la famiglia davanti alla televisione ed è opportuno e oserei dire quasi obbligatorio, mi spingo fino a questo termine, perché se noi riusciamo a stare insieme davanti alla televisione, famiglia piccola o grande che sia, quel mezzo televisivo, quel caminetto che ovviamente oggi è uno schermo ultra piatto, riesce ancora ad insegnarci cose importanti. Il lavoro del Moïse è fondamentale, lo ripeto, prendere un premio dal Moïse è prendere un Oscar per un attore. Io vado via con questo premio sicura di avere una grande gioia dentro e una grande preoccupazione per il quotidiano e per il domani perché me lo devo meritare. Buon lavoro e grazie.